Anche nella sessione di lavori di febbraio la pandemia da coronavirus è stata al centro dei lavori del Consiglio della provincia autonoma di Bolzano, iniziati con un intervento del presidente della provincia Arno Compatcher e dell'assessore alla sanità Thomas Widman. La situazione è tesa ed è stato rilevato il primo caso di virus mutato, è stato detto. Si sarebbe continuato a monitorare con attenzione intervenendo con un lockdown solo se necessario, come poi in effetti si è verificato. Forte l'appello al rispetto delle regole da parte della cittadinanza, con l'auspicio che anche la vaccinazione agli over 80 possa alleggerire questa situazione. Dopo che l'opposizione ha ribadito la necessità di ristori e chiesto una comunicazione più chiara, la vicepresidente della provincia Valtrauddeig ha evidenziato lo sforzo del sistema sociale che sta gestendo più del doppio delle abituali richieste di sostegno agli affitti. Il presidente Compatcher ha chiarito che si tratta con Roma per poter assumere debiti. L'assessore Philippe Achammer ha citato l'intenzione di mettere a disposizione i contributi in conto capitale per riduzioni di fatturato sopra il 30%. Tenendo presente l'obiettivo di dare sollievo alle categorie colpite della pandemia, la maggioranza ha quindi sottoscritto e accolto alcune emozioni dell'opposizione. Si tratta di quella del Gruppo Verde di ampliare il servizio di prestito di attrezzatura tecnica da parte delle scuole ad allunni e alunne, fornendo anche la relativa assistenza. E di due del Team K. La prima per rafforzare i centri per l'impiego e offrire nuove tipologie formative per ricollocarsi nel mondo del lavoro. La seconda per monitorare la presenza del virus del Covid nelle acque reflue, esame che permette di rilevare in anticipo l'esistenza di eventuali focolai. Rispinte invece le altre proposte, tra cui quella di Alto Adige nel Cuore, Fratelli d'Italia, di sospendere il bollo auto 2021. Quella del Partito Democratico, liste civiche per investimenti nella scuola. Quella dei Freiheit, richiene per il rilevamento degli anticorpi naturali come strategia antipandemica. Quella del Movimento 5 Stelle per un turismo sostenibile, sicuro e digitale. Quella della Südtiroler Freiheit per aiuti Covid alle aziende comparabili a quelli austriaci. Nello spazio riservato alla maggioranza, l'Aula ha approvato anche la proposta della S4P di introdurre nuovi metodi di screening Covid non invasivi, tra i quali i test diagnostici salivari, in particolare destinati a bambini e ragazzi e la mozione della Lega Salvini-Alto Adige-Sutirol per sostenere strutture di recupero, soccorso e cura per animali selvatici.